Da circa due mesi gli occhi del mondo sono incollati sulla città di Arran, che è stata colpita da un'epidemia causata da un agente patogeno sconosciuto. Non si sa ancora cosa abbia provocato questa orribile calamità. Il Ministero della Difesa ha eretto un muro per isolare l'area subito dopo lo scoppio dell'epidemia. Il GRE che si occupa delle operazioni di soccorso continua a inviare rifornimenti per i sopravvissuti nella città. Nonostante il GRE abbia confermato di voler aiutare le persone costrette in quarantena ad Arran finché non sarà trovata una cura, il Ministero della Difesa ritiene necessario agire in modo radicale per evitare il dilagare del virus. Ma il dubbio rimane, ci sono ancora in città dei superstiti non colpiti dal virus come sostiene il GRE? E in tal caso, il Ministero porterà comunque avanti il piano di annientare la città per eliminare una volta per tutte il virus di Arran? A causa del virus o a causa delle scelte del Ministero, una cosa è certa, la città di Arran ai giorni contati. Huda attivato, inizio del briefing. Informazioni sul caso, Kadir Suleyman. Un politico locale assunto per mantenere l'ordine dopo l'inizio dell'epidemia. Suo fratello Hassan morì in un incidente collegato all'epidemia prima che potessimo evacuarlo. Suleyman ha incolpato il GRE per la morte di Hassan e ha rubato un file segreto che ora usa come merce di scambio con il GRE, con l'ordine di renderlo pubblico nel caso a lui accada qualcosa. Informazioni sul caso, il file rubato, il file illustra il processo incompleto per preparare una cura contro il virus. L'utilizzo del processo attuale produrrebbe una sostanza altamente tossica. Nel file è anche descritta la struttura del virione. Ogni tentativo di utilizzo provocherebbe la perdita di molte vite. Deve essere recuperato. Ulteriori informazioni, situazione attuale. Suleyman ha inviato il file a un complice a noi sconosciuto. Con istruzioni di renderlo pubblico quando riceverà l'ordine. In risposta stiamo disturbando le comunicazioni della città per impedirgli di rendere pubblico il file. La tua radio ti permette di comunicare nonostante i disturbi. La tua vita dipende da essa. Non perderla. Nel frattempo Suleyman è sparito e agisce con un nome diverso. Riteniamo che ora sia a capo di una delle tue fazioni che operano nella città. Ripeto, devi trovare Suleyman e recuperare il file rubato. Altrimenti l'umanità potrebbe essere colpita da una catastrofe senza precedenti. Ve l'avevo detto che non era un lancio normale. Rompetegli le gambe e portatelo da Raiss. State indietro, tutti quanti! Fermo. I rumori forti li attirano. Indietro! Ritiriamoci! Forza! Dobbiamo muoverci! Portiamolo via dalla strada! Aprile la porta! Via! Scappa! Torri, qui Jade. Preparate l'infermeria. C'è un tipo con una ferita alla testa. E un mosso sul braccio. Oh, merda! Amir è ferito! No, Amir è morto. Sto portando qualcuno che potrebbe anche sopravvivere. Uno dei nostri! Non lo so. No, daglielo tu! Hai paura? Non ho affatto paura. Allora, daglielo! Ha aperto gli occhi! Cosa? L'ha fatto di nuovo! E se fossi uno zombie? Zombie! Zombie! Oh, mamma! Oh, mamma! Dormi per tre giorni come un cadavere e ora ti metti a spaventare i bambini. Ottimo inizio, 31. Dove mi trovo? In paradiso, non vedi? D'accordo, basta con le chiacchiere. Vai alla stanza 190. Il capo ti dirà tutto. Perché mi hai chiamato 31? Chiedilo al capo! 31 è il tuo numero. Come hai detto? Il tuo numero. Sei la trentunesima persona che ha contratto l'infezione. Io sono la diciottesima. Qui si conta tutto. Una dose di anti-zim in meno, un contagiato in più. Un altro runner è andato. 31 persone infette. Restano solo 7 anni. Amir è morto a causa di questo tipo. Sta zitto. Sta zitto un corno. Ora lo prenderà lui, l'anti-zim di Amir. Ehi, dov'è la stanza 190? Di sopra. Stiamo morendo tutti. Sto cercando il capo, è lì dentro. Ah, tu devi essere il 31. Entra. Ehi, cerco il capo. Non sei tu, vero? Ti sembro troppo giovane. Non ti sta bene la mia età. No, io so che volevi parlarmi. Così va meglio. Ricordi qualcosa? Sai dove ti trovi. Credo che questa sia una specie di rifugio, no? Lo chiamiamo la torre. Brecken e i suoi runners ne sono impossessati un paio di mesi fa. E da allora questa è casa nostra. Ricopriamo rifornimenti, cerchiamo materiali, insalpiamo la gente. Sì, volevo ringraziare quella ragazza. Bravo. Se non fosse per lei, ora staresti rosicchiando la tibia a qualche poveraccio. A proposito, il tuo anti-zim è andato verso. Jade è riuscita a salvare soltanto la tua radio. Sì, posso riaverla per piacere. Credo che serva più a me che a te. Amico, ti sbagli di grosso. Ok, prenditela. Sai perché i runner rischiano la vita? Per salvare quelli come te. Ti prendi l'antisin destinato a qualcun altro e non condividi con noi la tua attrezzatura. Guarda, non ho tempo per i tuoi capricci. Ho perso il contatto con uno dei nostri per colpa di questo schifo di radio che abbiamo. Senti, fammi una cortesia. Non voglio più vedere né te né la tua preziosa radio. Quindi vai a renderti utile altrove. Alla torre non c'è posto per gli scansafatiche. Ehi, ti sbagli. Non sono in uno scansafatiche. Io... Ehi, capo... Lascia perdere. Il tipo di cui ti ho parlato è al tredicesimo piano. Forse è rimasto intrappolato da qualche parte. Torna più tardi. E comunque non sono il capo. Troppo giovane, no? Sono Ryan. Il boss è Brecken. Non sono uno scansafatiche. Pronti. Dove credi di andare? Al tredicesimo piano, a cercare delle cose per Rahim. Al tredicesimo? Cazzo, non sarà una passeggiata. Ma qui ognuno deve fare la sua parte, dico bene? Senta cielo. Quanta gente è morta qui. Parla, Crane. Sono tre giorni che aspettiamo il tuo resoconto, Crane. Che cosa è successo? Abbiamo perso la radio. Ma tranquilli, nessuno sa chi sono. Non ho ancora visto il leader della torre. Non posso confermare la sua identità. Sto provando a inserirmi. Ricevuto. Non abbiamo molto tempo, Crane. Non dimenticarlo. C'è dell'altro, ma sono stato morso. Non mostro alcun sintomo, ma qui mi hanno detto che sono infetto. Allora ti conviene procurarti dell'antizina al di questo. Aiuto! Aiuto! Aiutatemi! Che cavolo... ... ... Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Guarda, 31, sei andato a cercare Mark. Ma com'è la situazione laggiù? Tutto tranquillo ora. Va bene, non muoverti. Faccio scendere Lena. Non muoverti. Lena sarà qui da un momento all'altro. Devi trovare delle garze e un po' di alcol. Usali insieme per fermare l'emorragia. Ti prego, fai presto. Cerca di stare calmo, ok? Torno subito. Faccio scendere. No, no, no. No, no, no. Bene, questo è tutto ciò che ha chiesto Mark. Vediamo se funziona. Bene, chi è ferito? Sta sanguinando parecchio. Vediamo un po'? Garza e alcol, eh? Primitivo, ma dovrebbe funzionare. D'accordo, grazie. A lui adesso ci penso io. Ehi, 31, niente male per un principiante. Forse ti avevo sottovalutato. Lascia perdere, non è importante. Voglio solo restituirvi il favore. Va bene, vieni da me. Dobbiamo parlare del tuo ruolo nella nostra organizzazione. Ok, tutto fatto. Non è stato difficile. Che altro posso farmi? Beh, fammi pensare. Rahim, sei una persona intelligente e pericolosa. Omar mi ha detto della tua idea per il nido. Cariche esplosive? Davvero? Non ho mai parlato di esplosive. No, pianta. La si vede lontano un miglio quando menti. La mia idea funzionerà. Davvero? Pensi di essere immortale? Ma che sei, mia madre? No, e lo sai. Nostra madre è morta. Cerca di essere più gentile con me. Sono l'unica famiglia che ti resta. Specie ora che Amir non c'è più. Tu sei Jade, giusto? Giusto. Volevo ringraziarti per ciò che hai fatto per me e dirti che mi spiace molto per la tua perdita. Ti devo la vita a te e ad Amir. Già, è vero. Vuoi ricambiare il favore? Fai in modo che quell'idiota di mio fratello non si ammazzi. Niente esplosivi, Rahim. Allora? Allora, può bastare così? Posso parlare con Brecken adesso? Innanzitutto vai a metterti dei vestiti puliti. Li troverai nella tua stanza. La 194. Perché? I miei non vanno bene? Ti serve qualcosa di più adeguato, ordine di Brecken. Chiamami dopo che ti sarai cambiato. Va bene, Rahim. Sono pronto. Dov'è Brecken? Non così in fretta, amico. Se vuoi guadagnarti un posto tra noi, dobbiamo scoprire cosa sai fare. Vai alla palestra. È al piano più alto. Appena un paio di rampe più su. Rahim, dove sei? Non ti vedo. Mi vicino. Allora? Che stai aspettando? Vieni qui. Dovresti sentirti a casa. In inglese, Gru, si dice cream, no? Vieni qui. Vieni qui. Benvenuto alla palestra. Cominciamo dalle basi. Devi imparare a correre. Devo imparare a correre? Che intendi? Fa quello che ti dico e basta, chiaro? Ora, salta giù fino in fondo. Ma sei matto? È un suicidio. Non essere tifono. Dai, non dici, sono serio. Guarda e impara. Rahim! La mia gamba! Non muoverti! Vado a cercare aiuto! Ci sei cascato come un merlo. Sei un bastardo! Beh, non ti piacciono gli scherzi? Avanti! Porta qui le chiappe! Porca di una puttana. Oh, merda! Oh, merda! Bella scarica di adrenalina, eh? Ma vedrai che spassa. Non abbiamo ancora finito. Se vuoi sopravvivere all'esterno, devi sfruttare l'ambiente. I mangiacarne non sanno arrampicarsi, quindi più ostacoli ci sono in giro e meglio è per te. Ti ho preparato a delle situazioni un po' particolari. Vediamo come te la capi. A volte compiere strisciare attraverso i passaggi più stretti, così i mangiacarne avranno difficoltà a seguirti. Cerca di non rallentare una volta che inizi a correre. Là fuori, se ti fermi, sei perduto. Non male! Per un novellino. Bene! Sali su quell'impalcatura e cerca di non cadere, perché non ci sono il mio preferito. Salta, aggrappati e tirati su. Se non sai farlo, non sopravviverai nemmeno dieci minuti. Bel lavoro! Bene, passiamo alla vera prova. Tornata crew e, mentre corri, metti in pratica tutto ciò che hai imparato. Dove picco, chiii! No, oh! D'accordo, può bastare. Hai talento, amico. O forse queste cose non sono una novità per te. Allora, eri invece a parte? No, giusto un po' di atletica leggera alle scuole superiori. Allora sei un prodigio della natura. Mai visto niente di simile. Che... che mi succede? Ehi! Graeme, parla! Che sta succedendo? C'è qualcosa che non va. Rahim, cosa mi è successo? Oh merda, ti è venuta la tua prima crisi. Torna subito qui. Rahim, che diavolo mi è successo? Mi sto trasformando? Probabilmente no, spero. Quelle crisi sono sintomi dell'infezione. Comunque ti conviene andare dal Dottor Zer. Ti visiterà e forse ti darà un po' di antigen. Prima di andare da Zer, passa dal fornitore. Ti darà l'equipaggiamento per andare lì fuori senza che qualche mostro ti stacchi la testa. Grazie. 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 Vedrò di ricordarmene. C'è dell'altro? Vado ricorsa. Se vuoi diventare ancora più popolare, prova ad aiutare la gente, a fare qualche favore. Vedrai. Potrebbero anche procurarti compagnia per la notte. Cose peggiorano di continuo. di continuo. Che inviare? Di coberti. Ucciderai per andarmene. Quello. Cone deve esserci un modo di andarsene. Cone cioè... Stai andando fuori, eh? Ok, Novellino, sta attento lì fuori. Abbiamo già perso troppi uomini. Mi chiamo Crane. D'accordo, Crane. Vedi di sbrigarti. Non hai tempo per ammirare il panorama. E cerca di non fare rumore. I suoni attirano quelle carugne. Spero che quelle merde non imparino mai ad arrampicarsi sul tetto in favore. Dottore, ehi, c'è nessuno? Camden, Camden, ci sei? Seria. Ah, ecco, dovrei fare un vaccino. Cosa? Non è un vaccino, è un ritardante. Si chiama Antizin. Ritarda i sintomi, si sieda. L'Antizin ritarda l'inevitabile. Il GR non può fare di meglio. L'inevitabile? Non esiste una cura. È una variante della rabbia. Per ora non c'è una cura. Ma sto facendo degli esperimenti con l'Antizin su dei tessuti infetti. Una cura è possibile. Decisamente possibile. Dice davvero? Pensa di riuscirci? Sì, credo di sì. Con l'aiuto del dottor Camden. Dove ho messo quella siringa? Chi è il dottor Camden? È un collega intrappolato nel settore zero, dove si è verificato il primo focolaio dell'epidemia. Noi stiamo collaborando via radio. Certo, se i collegamenti fossero migliori, avremmo fatto più progressi. Ne avremmo fatti anche se i miei primi test avessero avuto successo. Ho iniettato alcune versioni modificate del virus in alcuni pezzi di carne, che ho sparso per l'intera città. Speravo che qualche infetto li avrebbe mangiati. Così avrei potuto osservare e documentare i risultati. Ma come è andata? I risultati sono stati inesistenti. È stata solo una perdita di tempo. Ora non ho più motivo di tenere da parte dose di Antizin. In ogni caso, basta così. Ho molto da fare. Vada, vada. Dunque, cosa stavo facendo? Raikhan ha mandato i migliori a proteggere quei... Rahim, Zer mi ha visitato e mi ha dato un'altra dose. Bene, bene. Adesso dovresti essere a posto per un po'. E la cosa mi rende felice, perché mi piace darti ordini. Allora, facciamo una prova reale. Vai da Spike. Lo trovi vicino al camion di Zer. Ha un lavoro per te. Spike, sono Crane. Altra mano d'opera non specializzata? Beh, zitto e ascolta. I rifornimenti aerei sono di due tipi. Il primo contiene cibo, kit di soccorso, strumenti di sopravvivenza. Il secondo tipo è pieno di Antizin. Il GRE ci manda dei messaggi video per farci sapere quando arriveranno. Il problema è che quasi tutti i rifornimenti con l'Antizin finiscono nelle mani degli uomini di Raiz. Senza siamo praticamente fottuti. Raiz e i suoi si muovono solo durante il giorno, perché uscire con il buio è il miglior modo per farsi ammazzare. I prossimi rifornimenti di Antizin arriveranno oggi al tramonto e Breken vuole impossessarsene. Potrebbe essere la nostra unica occasione per recuperarli. Io cosa dovrei fare? Beh, come ti ho detto, uscire di sera equivale a un suicidio. Cioè, sarebbe un suicidio se non si usassero i rifugi e le trappole che ho preparato in giro. Breken e il suo team non avranno problemi, a patto che tu appronti quelle trappole. Ecco che cosa devi fare. Di che trappole si tratta? Come faccio ad approntarle? Ti spiegherò come fare. Ricorda soltanto che, senza queste trappole, Breken non supererà la notte e se non torna con l'Antizin, per noi è la fine. Prima che tu vada lì fuori, prendi dei petardi. Li ho fatti io. Ti aiuteranno a creare un diversivo. Per noi, per noi, per noi, per noi. Iniziamo con l'auto. Per affrontare la trappola, apri il cofano del motore e collega la batteria. Qui parla Jade. C'è qualcuno lì fuori? Abbiamo un'emergenza. Beh, io sono all'esterno. Sto facendo un lavoro per Spike. Sei Crane, giusto? Uno dei raios sta cercando di preparare uno dei nostri rifugi per la missione di Breken. Si trova in un campetto tra Befa e Mirmal, circondato da zombie. Dobbiamo aiutarlo. Va bene, ci penso io. Bene, Jade, sono qui. Insieme a qualche infetti. Va bene, ci penso io. Allora, accendi le luci. È l'unico modo per rendere il luogo sicuro di notte. Come procedi? Hai acceso le luci? Ci sono. Dammi ancora qualche istante. Continua. Così uno, sono detto Уchi? Will Crane. Parla pure. Ho incontrato un dottore, una specie di scienziato. Gli hanno costruito un laboratorio in un camion e sta lavorando a una cura per il virus. Si chiama Zell. Pronto? Mi sentite? Affermativo. Obiettivo secondario. Mantieni la tua copertura e possessati delle sue ricerche. Fai il rubato ha sempre la priorità, non è vero? Affermativo. Dubitiamo che un solo ricercatore che lavora in un camion possa aver ottenuto qualche risultato. Ma se ha scoperto qualcosa, vogliamo saperlo. Jade, ho finito. Bene. Dobbiamo preparare altri luoghi come quello. Abbiamo individuato altri luoghi dove allestire dei rifugi. Spike te li segnerà sulla mappa. Un'ultima cosa, Grey. Grazie. Spike, è tutto tuo. Ora concentriamoci sull'obiettivo principale e approntiamo la prossima traccia. C'è un'auto all'imicina. D'accordo. La strada è piena di infetti. Sai cosa devi fare, no? Stai alla larga dalla strada. Resta sui denti, dove non possono raggiungerti. Sono tutti intorno all'auto, Spike. Hai ancora dei vetardi con te, non è così? Lanciare qualcuno nel mucchio. Qui bastardi si... Distraggono facilmente. La strada è finata. Ah! Grazie a tutti. 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 Uh hey... Sì, sveglio. Ha successo qualcosa di brutto. Ti devo parlare. Va bene, dammi solo un minuto. Sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. 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 Grazie a tutti. Oh, sento cielo! Non riesci nemmeno a camminare! Ci servi vivo, dannatissimo idiota! D'accordo, entriamo. Mantieni la calma, ok? Brecken? Lena? Forse voi riuscirete a convincerlo. Jade, chi è il tuo amico? Kyle Crane. Stammi a sentire, Brecken. Non puoi assolutamente tornare là fuori. Troveremo un altro modo senza che tu debba correre dei rischi. Dico bene, Crane? Vado io, ci penso io. Giusto, sì. Andrà Crane. Ne sarà felicissimo. Senza offesa, bello, ma non hai esperienza. Non puoi andare... Crane ce la farà. Inizierà dal punto giusto. E poi Lena ha ragione. Tu devi restare qui per occuparti della torre. Convinci gli altri che c'è ancora speranza. Ah, al diavolo. Magari un ultimo tentativo prima di andare da Reiss. Sì, va bene. D'accordo. Buona fortuna, Crane. Jade, hai un minuto? Certo. Vai al calderone, ci sentiamo tra poco. Senti, c'è qualcos'altro di cui dobbiamo parlare. Brecken è stato ferito gravemente là fuori. Peggio di quel che vuole far pensare agli altri. Ha preso un colpo in testa. Ora ha degli attacchi epilettici. E non ho neanche una dose di Lora, Trax. Indubito che ce ne sia in giro. I medicinali antipilettici sono andati via come il pane all'insorgere dell'epidemia. I negozi non ne hanno più da settimane. Sì, proprio così. Come fai a saperlo? Cosa posso fare per te, Elena? In città c'è un uomo che si chiama Gazzi. Non ci sta troppo con la testa. Non so se mi spiego. Sua madre soffriva di epilessia e ogni mese lui le procurava i farmaci. È morta due anni fa. Ma Gazzi ha continuato ugualmente a ritirare le medicine in farmacia. Gazzi è un abitudinario e può diventare parecchio... insistente. Per cui hanno continuato a dargliele. Pensi che le abbia tenute per tutto questo tempo? Se così non fosse, non saprei dove altro potremmo cercare. Gazzi adesso vive sotto il cavalcavia. E non accennare alla morte di sua madre. Mi raccomando, non capirebbe. Come va il dolore? È ok. Non prendermi più. Non prendermi più. I Grunner sono quasi tutti fuori combattimento E Brecken vuole che gli espi... Non sta... Non è mai all'aperta di notte Vieni Un'offerta speciale per ti Un'offerta speciale per ti Un'offerta speciale per ti Qui Crane Parla pure Il nome del capo della torre è Brecken E non è lui il vostro uomo C'è un altro tipo sospetto Un boss del posto Si fa chiamare Rais La incetta di Antizin E poi spreme come limoni Chi ne vuole comprare qualche dose Devo recuperare l'Antizin da un rifornimento aereo Se non porterò a termine la mia missione Dovranno trovare un'altra soluzione Recevuto Ottimo lavoro Crane Te la stai cavando bene Prosegui la missione e dacci il tempo di riflettere Quando trovi l'Antizin Chiamaci immediatamente Un'offerta speciale per ti 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 Sì. Sì! Sì! Grazie a tutti.